Angelina Jolie e il suo percorso di rinascita, nuovo amore in vista? . Dopo un anno difficile, vissuto tra sofferenze e rimpianti, Angelina Jolie ha finalmente ritrovato il sorriso, per la gioia dei suoi fan. Bellissima e raggiante, la star di Hollywood è apparsa in numerosi eventi sfoggiando una luminosità che non è passata inosservata, merito dei figli e dellentusiasmo per il suo lavoro? . Secondo alcuni rumors il merito andrebbe anche ad una nuova conoscenza, nuovo amore in vista per Angelina?. Angelina Jolie e raggiante, merito di un nuovo amore. Dopo la dolorosa separazione da Brad Pitt, Angelina Jolie ha vissuto momenti di profondo sconforto, ammettendolo anche pubblicamente. . Dopo una relazione così lunga e importante, che ha portato alla creazione di un nucleo familiare così numeroso, la consapevolezza della fine di un amore ha creato un forte senso di perdita nell'animo della star di Hollywood. . L'attrice però è un'icona di eleganza e di determinazione e ha deciso di rialzarsi, mostrando a tutti la sua forza, grazie all'amore dei suoi figli, la Jolie è una donna nuova e la sua rinascita ne è una testimonianza. . Ma il merito di questo riscatto è solo della famiglia e del lavoro o ha contribuito anche altro? Secondo quando riporta Entertainment Oniget, l'attrice starebbe segretamente frequentando qualcuno. . Questi rumors non sono mai stati confermati e secondo alcuni si tratterebbe di gossip infondati, a maggior ragione dopo la dichiarazione della Jolie che ha rivelato di essere pronta a perdonare Brad Pitt, qualora lui si fosse reso conto dei suoi errori. . Questo uomo del mistero esiste davvero o è solo un amico o un conoscente? Per ora i fan rimangono in attesa di scoprire qualcosa in più sulla vita privata della loro adorata Beniamina. . Angelina e il coraggio di rialzarsi. . Molto spesso le star di Hollywood vengono viste come creature mitiche, incapaci di provare dolore o di sperimentare insuccessi, Angelina Jolie però ha dimostrato al mondo di non aver paura di sfilarsi la maschera della perfezione, rivelando al mondo la reale delicatezza dei suoi sentimenti. . . Dopo mesi di dolore, a seguito di una brusca separazione dopo più di dieci anni damore con Brad Pitt, la Jolie ha avuto il coraggio di rialzarsi, trovando la voglia di vivere e di mettersi alla prova. . L'amore per i suoi figli è stata la sua principale fonte d'ispirazione e oggi l'attrice è una donna nuova, più forte e determinata che mai. . Pronta ad abbandonare l'odio e a lasciarsi cullare dalla dolcezza del perdono, la star di Hollywood mostra con orgoglio le sue cicatrici, rivelandosi ancora più bella e coraggiosa. . I fan e i colleghi non perdono occasione per sostenerla, condividendo tutto l'affetto e la stima che provano nei suoi confronti. . Un'icona del mondo del cinema, che ha dimostrato quanto il talento possa andare di pari passo alla bellezza, Angelina Jolie è stata un esempio per i suoi figli, affidando a loro tutto l'amore e la tenerezza di cui era capace. . Una madre di famiglia e una donna in carriera, il dolore non l'ama e schiacciata, regalandole un nuovo modo di percepire la vita e di rimettersi in gioco. .